buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio dei racconti dal nascondiglio io come sempre sono nicola e racconterò per voi le storie degli agenti britannici in missione in italia durante la seconda guerra mondiale la puntata di oggi non richiede un'introduzione particolarmente lunga infatti riprende da dove ci eravamo lasciati la volta scorsa brisk capo missione della gela è sfuggito con quello che resta della sua missione al grande rastrellamento del grappa della fine di settembre 1944 si trova ora nei boschi del consiglio dove è incontrato il maggiore tilman in visita al quartiere generale della divisione partigiana nannetti quindi senza far salire troppo la suspense direi che possiamo iniziare il racconto risk a questo punto dei partigiani non ne voleva più sapere si era convinto che fossero dei codardi inutili buoni solo a mostrarsi in giro con le armi nei periodi di tranquillità ma poi ben poco propensi a farsi carico dei rischi che la vita di guerriglia imponeva la missione a questo punto era composta da soli quattro membri il capitano brisk stesso il caporale ball norton uno dei due soldati ex prigionieri di guerra che si erano uniti alla missione e l'interprete il signor palmer quest'ultimo chiese ottenne di poter essere trasparito in jugoslavia e da lì poi rientrare in sud italia brisk essenzialmente voleva fare la stessa cosa concludendo la missione quindi con un totale fallimento fece presente quindi tutte queste lamentele al maggiore tilman chiedendogli di essere guidato in jugoslavia per poi rientrare in italia tuttavia tilman gli chiese di considerare un'opzione alternativa dare un'altra possibilità ai partigiani la nannetti infatti era priva di un ufficiale di collegamento e tilman si trovava lì proprio per sistemare la faccenda l'arrivo della missione gela quindi per lui era essenzialmente prendere due piccioni con una sola fava tilman propose quindi a brisk di assistere la nannetti portarla sulla sponda destra del piave e trincerarsi lì sulle montagne per passare l'inverno sulla carta lo dobbiamo dire la situazione della nannetti era ben peggiore di quella delle bande del grappa che brisk aveva ispezionato al suo arrivo i partigiani infatti a causa di un rastrellamento nemico nei mesi precedenti avevano ben poche armi ed equipaggiamento molti come dice brisk erano vestiti di poco più che stracci per di più la nannetti era una formazione interamente comunista almeno sulla carta il che sollevava qualche diffidenza sulla loro affidabilità tanto politica che di combattenti e tuttavia stando con loro qualche giorno brisk rimase subito colpito dallo spirito di cameratismo che regnava tra i partigiani e il loro morale sempre alto nonostante privazioni e difficoltà il primo di novembre dunque accettò e la missione gela fu assegnata alla divisione garibaldina nannetti come sua missione di collegamento il 14 di novembre poi brisk ebbe conferma delle sue sensazioni i partigiani furono infatti attaccati da truppe alpine tedesche ma tenero botta il battaglione manara in particolare combatté senza arretrare subendo 11 morti tra cui il comandante e il suo vice su un totale di soli 28 uomini qui bisogna segnalare che però c'è forse un'incongruenza nel racconto di brisk infatti secondo le nostre fonti sarebbe stato vitas dei cacciatori delle alpi a sostenere l'attacco e non sarebbe nemmeno morto non è chiaro naturalmente cosa abbia generato questa confusione forse semplicemente brisk ha capito male visto che l'italiano a quanto pare non lo parlava così bene e tuttavia vale la pena segnalare queste piccole incongruenze perché ci ricordano il fatto che vedere le cose attraverso gli occhi degli agenti ci permette sì di scoprire nuovi lati della resistenza italiana che potevamo non conoscere ma può anche generare un certo qual grado di confusione ad ogni modo indifferentemente da come andarono le cose se il comandante morì o meno in questa azione l'azione in sé impressionò profondamente il capitano brisk che riportò nel suo report che questo fu per lui un momento decisivo per decidere di aiutare effettivamente la nannetti infatti scrive che questo è il momento in cui si rese conto di avere a che fare con una differente razza di partigiani e different stock nonostante queste buone premesse però il periodo successivo fu molto difficile la missione ai partigiani rimasero infatti in attesa di rifornimenti che non arriveranno mai mentre le loro scorte di munizioni e viveri si consumavano inesorabilmente una notte per colmo dovete assistere ai loro rifornimenti sganciati non sui loro segnali luminosi ma su quelli accesi dai tedeschi a fondo valle per ingannare i piloti la neve poi cominciò anche a cadere sulle pendici dei monti e si trovarono ben presto da arrancare sudici e laceri come dice brisk in due metri di neve in queste condizioni britannici e partigiani decisero di buon accordo di starsene buoni e aspettare tempi migliori il 22 di novembre finalmente una buona notizia il maggiore nicholson avrà infatti loro inviato il capitano richard tolson un ufficiale intelligente ed efficiente da parentesi tolson pubblicherà poi postumo un suo diario delle avvenimenti in italia chiamato appunto diario di guerra 1944-1945 quindi per chi volesse approfondire c'è questa possibilità pochi giorni dopo il 26 di novembre la missione ricevette finalmente il suo primo rifornimento aereo possiamo solo immaginare purtroppo per fortuna il clima di offeria che deve aver accompagnato l'arrivo di queste provviste la missione a questo punto si allargò reclutando due nuovi membri tra gli ex prigionieri di guerra che erano nelle bande partigiane il soldato semplice black del corpo di spedizione neozelandese e il sergente curca dell'aeronautica degli stati uniti d'america grazie all'arrivo dei rifornimenti che continuarono e si intensificano durante il mese di dicembre brisk cominciò a darsi da fare per organizzare i partigiani ed aumentare nel numero lavorando insieme al comandante della nannetti milo il bellunese francesco pesce un'altra figura semileggendaria della resistenza in italia furono istituite dice brisk due nuove brigate la mazzini e la tollot sotto il comando della divisione nannetti e qui c'è un'altra imprecisione perché noi sappiamo che la mazzini e la tollot in realtà esistevano già le brigate erano state semplicemente pianurizzate ossia avevano lasciato i monti e si erano disperse in pianura durante un rastrellamento nell'autunno anche qui perché brisk commette questo errore non è chiaro forse aveva capito male forse non gliel'hanno spiegato forse sta cercando di farsi bello tra virgolette agli occhi dei comandi dicendo che lui aveva fatto istituire due nuove brigate ad ogni modo tolson fu messo a capo del campo di ricezione dei lanci che dovrebbe essere quello alla base del col di schoss organizzato appunto dalla nannetti mentre brisk e milo si misero all'opera per svegliare gli uomini dal loro coma invernale i due lasciarono il quartiere generale della nannetti per raggiungere la zona dove le due nuove brigate dovevano essere organizzate per supervisionarne l'attività raggiunse all'area solo ai primi di gennaio a causa del terreno impervio e della neve e trovarono che le cose non andavano affatto bene i partigiani erano pochi e disorganizzati il loro armamento patetico durante la loro ispezione delle forze partigiane milo e brisk incrociarono anche il maggiore benucci dell'office of strategic services l'osss l'equivalente americano dell'sioe il maggiore aveva stabilito una missione di collegamento nella zona con la banda settima alpini composta per l'appunto da alpini sbandati dopo l'armistizio bisogna dire che non correro buon sangue né tra garibaldini alpini né tanto meno tra britannici e americani benucci infatti aveva promesso dei rifornimenti a tilman quando questi era ancora con la nannetti e non erano mai arrivati per di più sembrava ammassare i rifornimenti che gli venivano consegnati per sé e per i suoi uomini con il risultato che gli alpini giravano vestiti in uniformi americani o britanniche facendo bella mostra del loro armamentario ben nutriti e ben pasciuti grazie alle razioni militari mentre i comunisti erano vestiti di stracci e ridotti a mangiare polenta e farina di castagne il capitano brisk tuttavia sempre ottimista questo bisogna riconoscerglielo era convinto di poter risolvere la situazione lui e milo si incontrarono con benucci per concordare la spartizione delle provviste e tuttavia non si arrivò ad alcun risultato per di più in un'osteria del villaggio di sant'antonio il capitano brisk fece un incontro singolare un certo maggiore chapel dell'OSS dopo qualche bicchiere e anche qui purtroppo il rapporto di brisk è molto lacunoso perché omette di direci se fossero bicchieri di vino o bicchieri di grappa l'americano si decise a raccontargli la sua storia in teoria in quel momento sarebbe dovuto essere in austria ma il maggiore benucci l'aveva trattenuto nella zona mettendolo a dirigere la settima alpini la brigata era come già detto armata fino ai denti e chapel aveva accettato sentendosi relativamente al sicuro tuttavia la brigata era stata attaccata da una colonna tedesca di un centinaio di uomini secondo chapel composta da vecchi e ragazzini male armati e gli alpini si erano dati alla macchia senza nemmeno combattere abbandonando sul terreno armi e bagagli lui stesso era sfuggito alla cattura per miracolo nella confusione della rotta da quel momento chapel si era rifiutato di tornare da benucci essenzialmente disertando e si era intanato nell'osteria di sant'antonio dove brisk l'aveva trovato cogliendo il volo l'occasione brisk gli offrì di diventare l'ufficiale di collegamento delle due nuove brigate la mazzini e la tollot ci vuole un po a convincerlo comprensibilmente ma alla fine l'americano accettò sistemate quindi almeno parzialmente le cose milo e brisk decisero di ripartire ma non potevano muoversi fino al 12 febbraio a causa delle abbondanti nevicate nel frattempo bruno pari dei brunetti scampato all'astrellamento del grappa aveva preso il comando della mazzini e aveva cominciato una serie di audaci incursioni contro pattuglie nemiche e il minaggio di vari ponti milo si stava facendo in quattro intanto per organizzare i partigiani e trasformarli in una vera forza di combattimento bisogna qui far notare anche come brisk nel suo report sia molto lusinghiero nei confronti di milo e si spenda molto per elogiarne il comportamento ma anche le attitudini di leadership del capo partigiano meno bene invece andarono le cose per tolson le cui forze furono costrette la ritirata nel consiglio da un attacco in forza del nemico brisk chiese il lancio immediato di materiale per tolson che questa volta arrivò con le provviste era anche incluso un altro kit radio dando quindi origine alla missione gela blu come sottomissione della gela in questo periodo brisk si occupò anche dell'evacuazione di nuovi avviatori americani il cui precedente tentativo sotto la guida indovinati un po' del maggiore benucci era fallito uno di questi il tenente barry decise di rimanere con la missione infine il 15 di febbraio 1945 milo e brisk riuscirono a tornare da tolson nel consiglio i partigiani erano tesi il nemico aveva iniziato a bombardare le loro posizioni con l'artiglieria tuttavia ora i rifornimenti arrivavano regolarmente e i partigiani videro a crescersi il loro equipaggiamento i primi a metterlo alla prova furono gli uomini dei gruppi garibaldini vittorio veneto che era un gruppo di brigade che formalmente dipendeva dalla nannetti però aveva un certo qual grado di autonomia la brigata ciromenotti dunque respinse un tentativo di rastrellamento nella loro zona i cacciatori delle alpi cominciarono a lanciare attacchi contro le linee di comunicazione nemiche e assaltare presidi la brigata fratelli bandiera ingaggiò il nemico sull'alpago riuscendo perfino a catturarsi un mortaio la mazzini e la tollot invece soffrivano sotto i colpi del nemico chapel venne anche catturato ma riuscì a fuggire poco dopo tuttavia il suo chitradio andò perduto a questo punto con le notizie della nuova offensiva alleata provenienti da sud la missione e i partigiani alzarono il livello dello scontro le brigate del gruppo vittorio veneto sotto il comando di pagnocca e bianco ma dirette da milo su questo punto brisk e intransigente chi dirige le cose è sempre milo scacciarono i tedeschi dal consiglio la colonna inviata dal nemico per la presaglia fu distrutta in un'imboscata i partigiani dunque si trincerarono piazzarono mine e trappole e lanciarono i loro attacchi nelle aree circostanti il nemico tentò un altro attacco contro le ciromenotti ma il comandante tedesco si fece saltare su una mina insieme a due lugotenenti un evento che comprensibilmente raffreddò di molto l'entusiasmo delle truppe i tedeschi dunque tentarono prima di corrompere i partigiani e poi inviarono altre truppe che si accamparono a circa mezzo chilometro dalle posizioni partigiane senza però lanciare l'attacco nella notte furono i cacciatori delle alpi ad attaccare e misero in fuga i tedeschi alla fine il nemico si decise di limitarsi a bombardare i partigiani da lontano con l'artiglieria ma i partigiani avevano ormai preparato i loro rifugi e per di più nella notte sgusciavano con facilità tra le linee nemiche compiendo sabotaggi e razzie di materiali la missione fu ulteriormente rinforzata in questo periodo dall'arrivo di un gruppo di istruttori per il sabotaggio ora che i problemi militari e organizzativi stanno finalmente trovando una soluzione fu la politica a creare nuovi attracapi per brisk e i suoi il maggiore tilman infatti si rifece vivo e chiese a brisk di rimpiazzare milo al comando della divisione sostituendolo con pagnocca sulla base del fatto che milo veniva considerato dai comandi troppo intransigente nella sua fede comunista per di più si chiedeva anche a brisk di spezzare l'unità di comando della nannetti rendendo la mazzini e la tollot indipendenti brisk però non riusciva a capacitarsi di queste decisioni non aveva alcuna fiducia in pagnocca che era stato messo in una posizione di comando durante l'assenza di tolson e non ispirava secondo lui negli uomini la stessa fiducia di milo né aveva dimostrato le sue stesse capacità militari o la sua stessa determinazione né voleva disorganizzare la divisione che al momento stava combattendo così bene spezzando la catena di comando con la mazzini e la tollot per di più non aveva nemmeno grande fiducia nel comandante di zona il maggiore abba o nell'interprete di tilman un certo gatti al suo successivo incontro con tilman quindi brisk puntò i piedi informò al maggiore che se milo fosse stato rimosso e la nannetti spezzata lui se ne sarebbe andato tilman il quale probabilmente sotto sotto era d'accordo con brisk e stava solo riferendo degli ordini che gli erano arrivati accettò la sua presa di posizione e lasciò cadere il progetto infine nella notte del 17 marzo 1945 arrivò il capitano lingen che avrebbe dovuto sostituire brisk ma gli eventi ormai messi in moto impedirono l'avvicendamento fino al 21 di aprile quindi essenzialmente fino alla fine delle ostilità i partigiani stavano infatti attaccando i tedeschi in ritirata senza sosta e la vittoria finale apparire vicina il 27 di aprile gli ultimi assalti alle sacche di resistenza tedesche furono lanciati dai partigiani della nannetti la ciro menotti liberò il villaggio di sacile i cacciatori delle alpi l'area terroiano e conegliano la cairoli entrò a vittorio veneto e in tutti i villaggi limitrofi le bande presero poi anche il controllo delle 28 centrali idroelettriche della zona per evitare che i tedeschi facessero terra bruciata questo del preservare alcuni impianti ritenuti nevralgici per la vita civile e industriale dell'italia era considerata una funzione chiave delle bande partigiane nel momento della ritirata tedesca e le missioni furono investite di grandi responsabilità perché i partigiani difendessero queste posizioni quello che si voleva evitare oltre al danno economico che avrebbe comportato la distruzione di larghi impianti industriali era anche il problema del disordine civile che si sarebbe potuto creare durante la fase di liberazione se per esempio le città fossero rimaste senza elettricità per lunghi periodi e in generale possiamo dire comunque che i comandi si ritennero molto soddisfatti dei risultati ottenuti dai partigiani nel proteggere il tessuto industriale italiano sfortunatamente però alcuni di questi impianti difesi dai partigiani furono bombardati dalla raf l'aviazione britannica causando l'inutile morte di sette partigiani ovvero la metà delle perdite totali in quest'ultima fase del conflitto e l'indegnazione comprensibilmente generale un'indegnazione che trova la sua eco anche nei comunicati che le missioni fanno ai comandi centrali eventi di questo tipo si verificano non solo in veneto ma per esempio anche in piemonte i comandi centrali delle soe dal canto loro non sono in grado di fornire una spiegazione per questi attacchi completamente insensati a posizioni che sono considerate già libere e questo avviene perché i comandi generali quando scrivono la raf per chiedere spiegazioni per questi bombardamenti non ricevono semplicemente alcun tipo di risposta ad ogni modo il 30 di aprile l'inghen stabilì il suo quartiere generale a vittorio veneto e contattò l'allide military government l'amministrazione militare alleata il cui compito era amministrare le aree liberate la tensione crebbe notevolmente in questi giorni quando il colonnello wilkinson non freccia un colonnello wilkinson dell'amg pretese la consegna delle armi dei partigiani della nannetti e milo si impuntò e ordinò invece i suoi uomini di tenersele questo del problema delle armi è un grande problema il problema del disarmo è un grande problema che i britannici devono affrontare in italia i partigiani infatti vogliono tenersi le armi per tutta una serie di motivi non ultimo il fatto che temono un ritorno del fascismo o temono vendette private da parte dei fascisti qualcuno vuole anche fare la rivoluzione e qualcun altro vuole anche farsi giustizia da solo in questo caso l'inghen si rivolse al colonnello price anche lui dell'amg quindi scavalcando questo wilkinson e si decise per una parata celebrativa per i partigiani al termine della quale le armi sarebbero state consegnate questo era un metodo che era già stato sperimentato con grande successo per esempio in emilia romagna perché alla fine dei conti i partigiani si erano affezionati alle loro armi si le volevano ottenere per una varietà di motivi però erano anche molto sensibili a questo tipo di riconoscimenti da parte degli alleati perché si sentivano molti di loro a buon diritto parte delle forze alleate che avevano liberato il paese quindi in un clima di euforia generale i partigiani sfilarono il 14 di maggio ma nel frattempo si era reso necessario lasciarli armati perché svolgessero funzioni di polizia nella zona circa 1500 partigiani poterono quindi tenersi le loro armi che come per qualsiasi guerrigliero avevano sicuramente acquisito anche un valore affettivo e simbolico siamo quindi arrivati alla fine del racconto sulla missione Gela una missione che appare molto particolare se non fosse che tutte le missioni britanniche in italia sono molto particolari per un motivo o per un altro Gela è divisa in due tronconi da questo grande evento quasi un cataclisma che è il rastrellamento del grappa un evento critico tanto per la resistenza veneta quanto per la vita della missione e dei suoi componenti brisk ne esce sicuramente cambiato ma il suo rapporto con i partigiani è un'evoluzione molto interessante in generale al suo arrivo non sembra averne un'opinione particolarmente positiva o negativa o perlomeno non lo lascia trasparire dopo il grappa ne ha le scatole piene alla fine del suo periodo di attività in italia ne diventerà il paladino sicuramente potremmo dire che brisk abbia imparato qualcosa tanto sui partigiani quanto forse anche su se stesso durante il suo periodo da guerriero possiamo però trarre anche altre considerazioni di ordine generale dalla storia della missione Gela la prima che le missioni vivevano la guerra partigiana a tutti gli effetti gli agenti infatti non erano in alcun modo privilegiati e spartivano con i partigiani le privazioni il freddo la fame la morte notevole a questo proposito la stizza con cui brisk protesta la mancanza di lanci non solo nel suo report finale ma anche in vari telegrammi nell'autunno inverno del 1944 in cui non risparmia critiche alla raf e ai suoi stessi comandi in effetti a ben guardare l'identificazione tra la missione i partigiani è tale che molti degli iscritti di brisk sarebbero potuti essere quelli di un qualsiasi capo partigiano missioni e partigiani dunque sono sulla stessa parca e di fronte a questo considerazioni di ordine politico come potevano essere la diffidenza nei confronti dei comunisti scompaiono ben presto brisk si trova più che bene con la nannetti e milo e possiamo immaginare che alla fine del periodo insieme i due fossero se non amici perlomeno in buoni rapporti d'altro canto lo vedremo questa pregiudiziale anticomunista per così dire si fermava agli ambienti londinesi lo stesso tilman con i comunisti ci lavorava e non sembra aver fatto troppe pressioni per rimuovere milo il che fa immaginare che stesse semplicemente riferendo ordini superiori appare dunque ancora più un peccato alla luce di questo racconto e queste relazioni costruite anche faticosamente sul campo tra britannici e italiani che le missioni siano poi scomparse nella memoria della resistenza purtroppo e questa è una cosa comune per quanto riguarda la biografia di questi agenti non sappiamo se brisk sia tornato poi sui luoghi della missione sappiamo che alcuni lo fecero per via di legami amicali affettivi o nostalgici che li legavano a quei luoghi ma nella maggior parte dei casi degli agenti non sappiamo nulla delle loro vite post missione e quindi non sappiamo come si rapportarono con la loro esperienza in italia un problema che sottolinea una volta di più questo buco nella memoria tanto italiana che britannica di questa bizzarra collaborazione spero che l'ascolto di questo primo racconto vi abbia divertito e forse anche un poco interessato e ci vediamo alla prossima puntata in cui parleremo della missione inciso una missione paracadutata con destinazione valle d'aosta molto tardi il 6 di aprile 1945 e quindi una missione che sulla carta aveva un compito molto semplice proteggere le centrali idroelettriche dalla valle d'aosta per circa tre settimane e tuttavia si trovò invischiata in una situazione molto più grande di quanto ci si potesse aspettare grazie a tutti